Parliamo di trasporto pubblico, la regione ha ridotto di 2 milioni di euro il trasferimento a Trieste Trasporti per il trasporto pubblico locale. Parliamo di cifra attorno ai 50 milioni di euro. Trieste Trasporti ha conseguentemente annunciato che taglierà i servizi erogati ai cittadini, cioè meno chilometri, anche se la riduzione c'è già e si vede. Utile ricordare che il servizio viene erogato in concessione che prevede tra l'altro l'esclusiva di Trieste Trasporti come prevede la legge regionale. Il taglio è stato concordato con la provincia di Trieste, giunta provinciale e al Consiglio non è mai pervenuto nulla, ma i tagli al servizio sono giustificati o piuttosto l'azienda ed i suoi molto ben pagati manager, presidente e consigliere di amministrazione dovrebbero meglio amministrare l'azienda eliminando sprechi inefficienti e super stipendi, piuttosto che ridurre i chilometri. Queste le affermazioni dell'ex consigliere provinciale e candidato a elezioni regionali, Francesco Cervesi, di un'altra regione. I cittadini tramite la regione e la provincia pagano costi per oltre 50 milioni di euro annui per avere circa 13 milioni di chilometri percorsi, quasi 4 euro a chilometro. Oltre a questo i cittadini pagano a Trieste Trasporti biglietti e abbonamenti. Da queste Trieste Trasporti ricava circa altri 20 milioni di euro, complessivamente 78 milioni all'anno di ricavi per 13 milioni di chilometri. Dunque il trasporto pubblico locale costa ai cittadini circa 6 euro al chilometro. Questo numero, confrontato con i prezzi dei trasporti su gomma, valori di mercato, punta dell'idea delle efficienze della gestione dei Trieste Trasporti, ma anche dell'attività di controllo della provincia e della regione. Ora il prezzo di mercato per i nolleggi di un camion con autista, gasolio e tutto quanto, spese generali, autostrada, utile di impresa, si aggirano intorno a 1,5 euro per chilometro. Questo vuol dire che ai cittadini un chilometro di Trieste Trasporti costa 4 volte tanto. Cervesi quindi in vita ha un controllo perché i tagli sono addettamente ingiustificati secondo le posizioni di Cervesi.